E oggi a Lars un incontro promosso dalla Lega sul fenomeno del cyberbullismo e i pericoli in rete. Ascoltiamo. I dati sono davvero allarmanti. È arrivato il momento di dare piena applicazione alla norma già approvata all'Assemblea regionale. Bisogna tornare a parlare direttamente ai ragazzi e mettere a centro la dimensione educativa, pedagogica, anche legata alla gestione delle emozioni.